Continuiamo con la melodia partenopea attraverso la voce di Bruno Minniti Allora Ho sentito il napoletano e mi sono... Eh? Fatto prendere? Perché no? Perché no? Ma prima del napoletano Sì? Eh? Sì Un altro servizio che ti riguarda? Mi diverto a trovare tutte queste clip Vediamole insieme Io mi diverto a riguardare Ma che strana combinazione Eh già, che strana combinazione, eh Che strana combinazione Dove è andata? Ah, si metta pure seduto, prego Mi stava parlando della sua terra Sì Deve essere veramente affascinante Io non sono mai stata in arabia No, spero di avere l'occasione di parlarne ancora con lei Eh ma non credo, non credo perché in questi giorni usciamo Ci abbiamo tante cose da fare quindi non è possibile Ma lei non gioca? Eh no perché io sbancarei casinò Dopo farei torto al mio amico Kemal Kemal? Ma chi è sto Kemal? Ma perché Kemal c'entra pure con la roulette? Eh Kemal è Kemal, ha le mani dappertutto Capisce? Scusi, lei non gioca Potrei sedermi, vorrei giocare Eh certamente Scusi Stupendo, un'isola stupenda Da paura Siamo stati proprio una cosa fantastica Indimenticabile Beh, hai tirato anche un bel film Quindi utile E direttevole In quei periodi questi film andavano alla grande Fimmi da cassetta, film commedia italiana Beh, poi bravissimo naturalmente E adesso via Ci trasferiamo subito a Napoli Sì, perché no? Attraverso la tua voce Bruno Miniti Grazie Grazie Maruzzella, Maruzzella Te mi dritta l'occhio mare E mi mise in pietra A me non dispiacere Sto cuore mi fa scimmattere Chiù forte l'uomo Quando c'è nessuno Prima mi dice Sì, va doce, doce Ma può morire Maruzzella, Maruzzella Tu vuoi fare l'americano Americano, americano, americano Ma se nato in Italia Sienta me non c'è stai Nienta fa Ok Napoletà 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 Ok Napoletà